e ancora buongiorno a tutti dopo aver trattato Castelluccio Val Maggiore ci troviamo a Ceglie Messapica questa è già la seconda volta che mi trovo qui ma qui non ci sono mai venuto ed ecco qui un'inquadratura sulla piazza in preparazione qui al concerto la nostra cassa armonica sotto la torre dell'orologio guardate che bello vedete oddio che cosa mi ritrovo davanti cos'è quella struttura vabbè s'armonica sotto la torre dell'orologio che va a formare da così una chiesa adesso facciamo le triangolazioni dai vediamo finalmente qua abbiamo finito oggi il nostro ultimo impegno e finiamo vabbè questa è una prima parte e finiamo in bellezza così